Le elezioni amministrativa a Como, centrodestra, alla resa dei conti per scegliere il candidato sindaco da presentare ai cittadini. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Marco Butti, attuale assessore all'urbanistica e al commercio di Fratelli d'Italia. Potrebbe essere la figura di sintesi per compattare il centrodestra negli ultimi giorni, indivisosi a livello nazionale che locale. Nei mesi scorsi, Fratelli d'Italia aveva espresso il nome del suo candidato a sindaco di Como, Stefano Molinari, attuale coordinatore provinciale del partito che fa capa, Giorgia Meloni. Una figura quest'ultima non condivisa però dagli alleati della Lega, che sembrerebbero, il condizionale resta d'obbligo, digerire meglio il nome del collega di partito, appunto Marco Butti. Tra incertezze, ipotesi e retroscena, mentre la data delle elezioni si avvicina, l'unica certezza è che il nome del futuro candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, secondo la spartizione politica delle province al voto la prossima primavera, sarà espressione di Fratelli d'Italia. Infine un secco no comment al nome di Marco Butti arriva dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Mauro Caprani.